Vediamo per curare i mendicati, per scalzare nelle di malannate e di pregare. Ma ora, appena che stiamo andando più luce, andiamo e facendo lo segno della croce. Della Maria che stai andando, e di pregare la nostra gran signora. Ma alla fine di stannata tanto pesante, sia con la murchina che con l'orto vacante, tutti in casa con caldo e ballo, per ringraziare la Madonna del Pono. Grazie per la matruzza che andate a razza per ogni pietro, e donano la vita e l'urbano per le nostre pietre. Grazie che con grande amore spurtiano i nostri amici, e donano la forza per credere sempre. Musica! Grazie a tutti i nostri amici, e donano i nostri amici, e donano i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici.